31 atac il comune non ha da darmi né una casa né un letto ed allora i tanti come me offre un pulmino dell'atac che gira tutta la notte per la città mentre noi dormiamo sui civili poi all'alba ci scarica piazza dei partigiani commento esistono delle vite inimmaginabili create dalla coscienza di chi vive quelle vite anch'esse appartengono alla perfetta giustizia del tutto l'ingiustizia è solo in chi si disinteressa di quelle vite grazie